Benvenuti in diretta ragazzi, buonissimo weekend a tutti quanti, vado in diretta leggermente tardi però abbiamo avuto gente fino adesso e quindi meglio così insomma che inizia un pochino a rigirare la normalità visto che mercoledì noi entreremo in zona arancione ragazzi vi faccio vedere il guanto, nuovissimo guanto dell'azienda LS2 Racing corto, guanto in pelle con protezione in carbonio, certificato ragazzi è un guanto strepitoso soprattutto per quello che è il suo prezzo che ora vi vado a dire strada facendo allora come vedete c'è il velcro quello nuovo lucido che è colui che tende a rovinare meno quelli che sono i vestiti, vedete io qui ho tipo l'anina non tira i peli per intenderci abbiamo il suo legacino brandizzato LS2, il guanto è completamente in pelle, adesso lo indosso per farvi vedere bene bene anche dove sono le protezioni, il guanto è veramente carino la colorazione abbiamo scelto questa ma c'è disponibile in altre colorazioni, abbiamo la protezione nel palmo brandizzata LS2 in 3D che è veramente veramente molto bello tutta la parte questa qui che è stata messa come supporto nel palmo diciamo come doppia protezione è stata fatta traforata in modo tale anche da avere più areazione all'interno della mano e far sudare di meno quello che è diciamo il palmo qua abbiamo tutto il pollice nella parte laterale traforato quindi anche qui ci permette una reazione ottima abbiamo questa parte traforata, protezioni in carbonio dove vedete molto molto eleganti e belle, le hanno fatte un pochino come il guanto di Ironman per intenderci qua abbiamo delle protezioni sempre in aggiunta semi rigide interne, abbiamo anche qua come potete vedere delle protezioni nelle dita bianche ok che fanno anche da piccole presettine d'aria perché dove vedete adesso io cerco di andare a fare un... non gliela facciamo nella parte questa qua interna c'è una retina che ci permette proprio di far entrare l'aria internamente abbiamo tutta la pelle, pelle di capra molto molto morbido quindi anche molto elastico come tipologia di guanto lascia moltissimo quella che è la sensibilità alla guida come vedete il movimento è libero consideriamo anche che per me questa è una taglia veramente grossa perché ci vorrebbe come minimo una taglia XS poi una particolarità che LS2 fa quasi in tutti i suoi guanti è il touch screen dove vedete qua c'è una piccola patch sopra posizionata nell'indice che serve appositamente ad aiutare insomma noi motociclisti a navigare con il navigatore tendenzialmente serve a quello ecco non è che serve a chattare in moto per intenderci poi niente ho quasi detto tutto il guanto viene di listino 69 euro amore giusto? sì 69 euro e 90 di listino questo è il nuovo guantino racing corto molto molto carino poi c'è il grosso c'è il lungo che è quello invece che già avevo fatto vedere in diretta e avevo fatto vedere anche in alcune foto questo vi può dare conferma un nostro cliente che è venuto anche questa mattina eri che l'ha acquistato dopo aver acquistato quello lungo e si è trovato bene perché noi chiediamo sempre feedback è una cosa importantissima ve lo faccio rivedere nella sua diciamo bellezza perché è molto bello come guanto guardate ha le protezioni anche sopra qui nella parte qui non l'avevo detto queste protezioni che sono anche loro altrettanto importanti è un bellissimo bellissimo guanto ragazzi vi auguro un felicissimo sabato un felicissimo weekend ci vediamo domani per farci gli auguri se tutto va bene che il tempo ce lo permette almeno di fare una passeggiata volante io vi mando un mega abbraccio e ci vediamo più tardi con la diretta forse diretta niente ho buttato su grosso con la foto 10 10 10 dirette mannaggia quanto impegno 10 dirette ciao ragazzi